Bella guys, un nuovo episodio di Undertale con il vostro Marva E niente, direi che possiamo andare avanti con il nostro bellissimo Undertale E tu 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 Noi vogliamo continuare Allora Normalmente qui ragazzi Mi ricordo se avevo sperato la puntata, comunque ci sarà un mini bus studio E ora va Le stiragnette Did you hear what they just said? They say that a human wearing a stripper shirt will come true Guardiamolo I heard that they hate spiders Non è vero A me non mi danno pastiglio I heard that they love to stomp off them Mi piace calpestarli I heard that they like to tear their legs off Ah no, vabbè, mi piace che stappagli le gambe? No, prego, cioè Non ho mai conosciuto la persona così cattiva con titanio Posso capire calpestarli perché possono essere butti a vedere I heard No, they're interpolated right now Era il personaggio che mi incontro prima Si ragazzi, è proprio lei They say how false things with their money Hello You think your taste is to refine as your petries Don't you, dearie? Haha I disagree with that notion I think your taste is exactly what this next batch needs Hmm Mentre ci vuole... Ci vuole mangiare in sostanza Allora Ne facciamo act Allora, se fai pay su Muffet 10 gold Ti pay 10 gold Muffet deduce l'attacco o distruggimento? Mentre ogni volta si paga 10 mili d'oro Si deduce il danno di Muffet Non so blue, my dear Non so blue I think powerful is a better look on you Ok, come avete visto prima con Papyrus ci ha resi blue e ci teneva sul fondo Poi con Undyne che ci dava la possibilità dello scudo Insomma, noi potremmo muoverci solamente su queste tre linee di ola orizzontali Up next, ok Il ragnetto sul lato ci aiuta a capire quale sarà il prossimo attacco Ovvero, un attacco di ragni Merci Spur Why so... So tall You should be proud Ok, non è proprio difficilissimo questo attacco direi Il primo attacco effettivamente Next Sempre i ragnetti Proud that they're going to make a delicious cake Ok, i prossimi saranno due ragni di fila Spidecrap along to the music Che bello Let you go, don't be silly Ok Ok, next ci sono i dolcetti Vedete Spir, ragni e dolcetti Non di spi... ok Spir You soul is going to make every spider very happy Ok Oh, ok, giusto Excuse a quelli che li invalzano Oh, dopo c'abbiamo Oh, il pancake Il pancake, ragazzo Che iso, bello Oh, a world of me I almost forgot to introduce you to my pet It's breakfast time, isn't it? I farm you to Che bello Il fight on the map è uno dei miei fight preferiti ragazzi Sempre più veloce Ah ecco il pet Adesso si sposta tutto su verticale E dobbiamo correre Mi faccio prendere Ok No ci sono i ragnetti e il dolcetto The pressure warns us about you Eh no Cosa ho fatto col piccolo non fesso Ok prossimo Mafia does a synchronic dance with O la due o le spalle Quindi ballano al tempo di un dia The pressure has a lot of money for you Oh no c'ho fatto bene Scemo Vediamo un item Vediamo Il nice cream E ce ne vogliamo They had such a sweet smile And Ok Ok i gornetti vanno avanti Quindi vanno i perfetti un boomerang Up next Cornet Quassani in realtà Però non è cornet Boomercorn It's strange But I swear I saw them in the shadow Changing shape Ah c'è di nuovo il super pocket It's lunch time He's ready to eat the breakfast And I forgot to feed my pet Che bella da ritmo di musica mentre spingi Dustin con Muffet Che bella spider dance Regnetti Regnetti It's fair With that money the spider clans can be finally reinvented Up next Dulciotti 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 Tutti i cornetti il prossimo turno Tutti i cornettazzi Even if they go under the door Snowweights Fatal cold Is impossibile No Si capisce quali Quali vanno avanti E quali vanno indietro Però ok Up next Double spider But with the money for your soul Will be able to rent them A heated limo Ah beh certo Una limousine riscaldata E vale giusto Ah qua proprio tutti Qua proprio tutte le cose ragazzi And with all the leftover We could have a nice vacation E vale giusto Con i soldi che rimangono Ci vanno una vacanza Or even build a spider Baseball fire Bello Vale giusto Un campo da baseball Per i ragni però Perché è importante Che sia per i ragni Ok La Te prendi l'onomale Ok Questa l'abbiamo passata Oh Cupcake The best Ultima fase La prossima But enough of that It's time for dinner Is it Effettivamente Back for lunch Dinner Oh cacchio Oh cacca Mamone Poi con il fatto che va sui giudie Ti confonde sempre un pochino AHHHHH NOM 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 Otto grande come un fessacchi otto, come un fessacchi otto, come un fessacchi otto, you're still all raving. Oh, my pets look like it's time for dessert. What a telegram from the spider in the ruins. What they're saying that they saw you and you helped donate to their cause. Oh my, this has all been a big misunderstanding. I told you someone with hate spider. The friends who asked for that soul. They must have met a different human in stripper's shirt. Sorry for the show. Ok, praticamente a fine fight, ragazzi, succedono delle cose differenti. In base se si compano oppure no, come abbiamo fatto noi all'inizio, la spider donut nelle ruins. In questo caso arriva il telegram che noi abbiamo acquistato lì la spider donut, se non erro. E quindi arriva questo telegram. Se non fosse che noi non compriamo un quell'oggetto, la fight finisce qui e arriva un altro telegram che vi farò vedere poi nella pacifist. Quindi vi ricordo che nella run della pacifist vi farò vedere tutte quelle cose che ci stiamo perdendo. Ovvero le risposte che diamo a papyrus, sì o no, cose del genere. Per esempio con Mettaton, cosa succede se invece noi falliamo le prove. E lo stesso qui per Manfet. Quindi diciamo, vi riassumo sempre che la pacifist, come le faremo dopo, per l'happy ending e la genocide non saranno nient'altro che dei extra. dei video extra, non vi farò rivedere tutto, anche perché vi sto facendo la norma all'inversione dei pacifist in modo per farvi vedere il possibile di quello che si può fare in questa run e poi farvi vedere solamente le chicche di una e dell'altra run. Ok, andiamo avanti. Ok, fight con Mettaton è completata. Oh, che bello. It's a poster for Mettaton, less stage performance. A tragic tale of two stars, a cursed love kept apart by the tide of fate. Beh, qua proprio le trame di due stelle, che innamorate, divise da un fatale destino. Look like he most time for the performance. Ah, è quasi l'ora delle dello show. Ok. Allora ragazzi, questo episodio lo concludiamo qui, anche perché quello precedente è stato comunque parecchio lungo, è durato più di 20 minuti, quindi vorrei far finire questo qui con il fight di Muffet. Vi farò vedere in un extra, possibilmente, come evitare il fight di Muffet da subito, ci sono due modi che vedremo poi insieme. Ehm, sì, che sarà poi l'ultimo extra che vi farò vedere. Quindi ragazzi, per ora da Marvel è tutto. Mi raccomando, in descrizione, like sulla pagina di RealPlayers e così, e anche su YouTube naturalmente, e così potete seguire sempre i nostri stream. E essere aggiornati su quando escono i miei video. Quindi ogni volta, vi ricordo, alle 15 del... Se dovete sempre i miei video, cos'altro? Mi raccomando, poi, pollicioni in su sulla pagina Facebook di GameLegend, e sito di informazione videoludica. Su Facebook troverete i link diretti a tutte le notizie che noi pubblichiamo. Noi faccio parte del loro team, quindi... Peace, guys! Link, like, scusate, sul link della pagina dell'FK Store, che durante le live e durante gli eventi dell'Euromix ci fornisce attrezzatura, spazio, insomma, è un nostro partner super affezciato. Detto questo, vi saluto. Pollicioni in su, mi raccomando, se vi è piaciuto il video. Un saluto dal vostro Marva e... Bé! Bé!